Ma che principalmente è buio? Ma che principalmente è buio? Tra l'altro c'è il pube di Shadow stavanti Aspetta vi faccio vedere il mio di pube Si si è rotto Arca miseria adesso lo sistemo aspetta Che serranda che sto sentendo benissimo L'ho appena sistemata io Sente qua i pantaloni quando ti siede è incredibile Eh Marco adesso un attimo che qui mi si è spaccato tutto il sito Sono stato effetto Arca miseria prima fammi sistemare queste cazzate Senti quant'è profondo è nel mio buco di sedere Uuuuh Aspettai Amici ma che cappelli soltano attimo? In realtà sono ordinati però non sembrano Vabbè Avete visto che sono un Saiyano? Voila Adesso posso parlare firmemente Parca si sente lontanissimo? Confermatemi Lo sento come sempre Mi sa strano Non credo sia stato toccato nulla per quella cosa Amici appunto stavamo parlando di Eliezer un po' sopra Perché avevo un po' di... Ero curioso di sapere quale... Se c'era stato e quanti ne aveva vinti di Oscar il miglior attore C'era un attore che aveva vinto più Oscar Sì e ce n'è tanti in realtà Però io ho visto solo di... Che dove fosse più rara la cosa invece no Di Gioacchino Fenice che vabbè si sapeva Eh vabbè ci stava Vabbè in realtà c'era anche Adam Driver che ha... Vabbè però... Dovrei tempo per prenderlo Sì infatti Sì Storia di matrimonio Eh lo dovevo ancora vedere quello che ero curioso Che c'è su Netflix Sì sembrava carino Ha vinto comunque l'attrice non protagonista di quello Sì Poi vabbè ha vinto Parasite che lo dico da un mese che lo devo vedere Non lo sto vedendo Poi io non sono contento più che altro per il sonoro E io non ho visto un cacchio Quindi se me li dite faccio Allora ci stanno Aspetta come è la partita Vi faccio vedere Intanto apro il gioco Aspetta che vi ho spassati San Crispino che dona 100 bit Grazie San Crispino Allora ve li dico tutti No aspetta aspetta Siamo entrare Vabbè intanto dimmeli che sto Quattro 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 Grazie Jason Che sei tornato È un bravo calcolatore 41 anni È un volume terribile però Ma bisogna sistemare Allora amici Attore non protagonista Ha vinto Brad Pitt In c'era una volta a Hollywood E ci sta secondo me Poi c'era anche Tom Hanks C'era un'altra gente che meritava Però secondo me Brad Pitt No Ci stava Film di animazione io non sono d'accordo E se per dirlo io che sono fanboy Ha vinto Toy Story 4 Io avrei fatto vincere Klaus a mani basse Però vabbè Ha vinto Toy Story 4 Che secondo me era un film molto carino Ma Klaus è molto bello Klaus secondo me era Cioè a livello tecnico È un capolavoro E siamo tutti d'accordo Poi a livello di trama Toy Story 4 Il vero tecnico era un capolavoro Klaus Dovrebbe essere l'unico Oscar della Disney Preso questa Mi pare che sia l'unico O non sono state due Non mi ricordo Klaus secondo me meritava assolutamente Perché comunque ci è stato fuori dal nulla Tra virgolette È piaciuto veramente a chiunque E boh Secondo me meritava Poi tecnicamente era fantastico Però vabbè Corto animato ha vinto Hair Love Adesso mi sta sfuggendo Vado a cercarlo Corti animati non li ho mai visti Non lo conosco Sto vedendo le immagini non l'ho visto Ha vinto Hair Love Di quelli che c'erano In realtà non ne conosco neanche uno Ma sono sincero Vabbè che cazzo di corti animati hai visto No infatti non l'ho visto Per niente Sceneggiatura originale ha vinto Parasite anche qui C'erano anche lì un bel po' di film C'era anche Night House Che ne è piaciuto tanque Però sceneggiatura originale Mettere 1917 Ha senso Beh Perché no Perché no scusa Perché non dovrebbe Non era tratto da una storia vera Ma no io non ti vedo sul film Ma perché non è sul film Ma perché non è sul film Non è tratto da un libro Eh ho capito Grazie schifo missile È tratto da una storia vera Non è una storia Ma non è originale Ma scusami Ma sì ma non è Ma non è che fai fatto da C'è comunque fatto da zero Magari prendi la trama base di qualcos'altro Ma la La comunque gestiscono in un modo In modo loro immagino Non è che fanno copy and call Aspetta un attimo Che intanto entro in una partita Poi continuo a leggere la situazione Sì iniziamo a entrare così Non tanto non fare la prima raffare Che piacerebbe capire Perché non si sta prendendo il gioco Eh inizia poi Ha definito le balle Inizia a Parare il campo Parare il campo Intanto io riesco a fare l'altro Allora vado a fare la legna Ma dai oh Dai bastardo Ah te Max che bello Che bello Eeeh Intanto Non so se mi ricordo No intanto la password Te la mette già di base Ok sto entrando Poi Sceneggiatura non originale Jojo Rabbit Cosa vuol dire tra la disceneggiatura non originale Nel senso che era Che Boh Che Un insulto era Vuol dire che hai ispirato a qualcosa Va bene Tipo gioca Ma c'era bisogno di fare la categoria Va bene Grazie Vascio Vascio Grazie mille Gli Harry Potter Ecco gli Harry Potter sono qua Ah beh sì Effettivamente Poi cortometraggio ha vinto The Nightmore's window Che non so Un po' mi spiace Non conosco Sceneggiatura Scenografia ha vinto c'era una volta Ollibus Exasia Grazie mille Exasia Costumi ha vinto Piccole Donne Che ci sta Ma quanto sincronizza Perché costumi Comunque sia Gli abiti particolari E poi che sono entrati Ma fiate dei merdoni Sono entrato Sono entrato Ok io vado avanti Piccole Donne che appunto secondo me ci sta Avengers ha vinto qualcosa Ma va non fanno vincere niente Ma ne ha vinto Gli effetti speciali era nominato No Basta Zero Non ha vinto nulla Era nominato solo agli effetti speciali Straburse era candidato a 3 Nel non ha vinto mai Ma sì ma tanto non li fanno mai vincere più in Marvel Mai lo so Poi c'è Documentario Made in Usa Quella è una fabbrica in Ohio Cortometraggio Documentario Learning to Skateboard in a Warzone Che non so Ossia Chi è? Iridium Un piccolo aumento per i migliori protagonisti Grazie Poi c'è Attrice non protagonista Che è Laura Dern Che è l'attrice che genitoria del matrimonio Che è boh Molto brava anche lei Ci sta Poi montaggio sonoro ha vinto Le Mans La grande sfida E qua Qua c'erano Star Wars C'era una volta in Hollywood Joker in 1917 Non lo so non ho visto i film Ha vinto Le Mans Eh io ho visto Joker Va Eh io ho visto Star Wars Non lo so sul sonoro gliel'avrei dato qualcosa Proprio C'è tanto lo Star Wars Magari gli altri sono bellissimi Oh Sonoro invece Che c'è sonoro Che diverso dal montaggio sonoro 1917 Poi c'è fotografia 1917 Quella era Quella che ho sentito ci stava si Comunque in generale del film Immagino che fosse un bel capolavorino Poi montaggio Le Mans Anche qui Eh adesso sono curioso di vedere queste Le Mans Eh Che cazzo è Io no perchè sei di macchina Eh io non lo so Effetti speciali Qua c'era Avengers Endgame C'era The Irishman Il Re Leone 1917 Star Wars ha vinto 1917 Qua sinceramente Io un premiuccio A quant'altro l'avrei dato Non lo so Ho uno o altro Ho Avengers Beh 1917 anche lì in realtà è molto Ho capito Delle robe veramente incredibili Fido eh perchè non l'ho visto Quindi mi filo però Poi c'è trucco e acconciature E... Bombshell Non poco Mi spiace Bombshell era... Perchè inizio anno era mi sa Quando è uscito Tanti non li ho Quest'anno ho visto praticamente solo Joker Io anche non ho visto Io non ho visto manco quello Poi Film internazionale ha vinto Parasite Che è della Corea del Sud Ne abbiamo parlato tutti stra bene Quindi immagino Che è meritato Poi colonna sonora Joker E anche qua Colonna sonora Colonna sonora E non la lost me again Di Rocketman ci può stare Ehm... Vabbè Rocketman sta che vincere la colonna sonora La regia la vinta Parasite Faccio un erroro Quindi buon gioco Un gioco Attore protagonista Vi giochi in Phoenix E boh Io ho visto Joker E a me Si a tutto un botto Come l'ha fatto A Mark non interessano le corse Un follow Buonasera Poi, attrice e protagonista René Zellweger Credo sia giusto Zellweger O Zellweger Comunque di Judy O Judy Non so come si dice Non l'ho visto io Non so cos'è Ma è riuscito Devo uscire in Italia ancora Quello Ok, perfetto E poi Miglior film Parasite Che A giudicare da come ne han parlato Oh mio dio ragazzi Che cos'è Parasite Guardatelo tutti Ma non lo sai neanche di cosa parla Pagina Io ho letto un po' la trama Sembra complicatuccia Ma forse solo leggendola Poi magari guardando il film Non è così Però complimenti Che un film coreano Amici ma la macchina Il pick up io ce l'ho Marco l'ho venduto Ah si No no Era incastrato nella Era in montagna incastrato Io comunque Non so anche la colonna sonora Marco mi ha detto Che Joker merita Però Si si Aveva una bellissima Che l'avrei data Vabbè Mi sono anche di parte Però Star Wars la colonna sonora Ha la stessa da 30 anni E non l'ha mai vinta A parte il primo Eh forza Eh ma ci sta La vinci una volta Non è che la vinci sempre Sempre uguale Quello è vero Però Non so se Non so io non ho visto Joker Quindi magari non meritava Non so No ma Joker aveva una bellissima Cioè aveva una bella colonna sonora Ora Non avendo visto Non aveva vinto Ma scusa ma La vita è bella Non aveva vinto un Oscar O era per il film straniero Era forse No era film straniero Era Penso di si Non importa Era film straniero Ma è perché Hanno detto che è la prima volta Che un film non americano Vince il miglior film No era per il miglior attore Ma c'era anche il miglior film La vita è bella Il film straniero Ok si perché Lì fanno anche la differenza Ok sono riuscito a salvare Il nostro camioncino Amici Si sposta quella balla Oh Non c'è modo The artist Della francese Eh bisogna vedere Se era una doppia Americano francese Sai Fanno sempre le soli Americano non so chi Sbagliato Comunque Boh Premi abbastanza Io purtroppo Quest'anno Avendo visto Poco Cioè Avendo visto Praticamente Solo Joker E E Klaus E Toy Story 4 Non so Frei proprio Credo che la gente Sia abbastanza soddisfatta Quindi Immagino Era ok No Confermatemi Che voi Ciao Non ce le sono si spostano Oggi Le balle Vado a prenderle altre E siete contenti Dei premi Sì effettivamente Può essere Nessuno abbia fatto mai Doppietta Effetti speciali Per Avengers Sinceramente Me li aspettavo pure io Però si vede che 1917 era Una roba incredibile Non lo so Perché su un film di guerra Mi aspetto che ci siano Ma Endgame ha praticamente Tutte le scene d'azione Fatte Era tutto Effetti speciali E' una strana Grazie da roba Era tutto Effetti speciali Azzuzzo Grazie mille Sì ma voi Aspetta Non confondete Effetti speciali Con roba creata In computer grafiche Vabbè Ma c'erano comunque Effetti speciali E' una vecchia Esplosioni C'erano Poi vabbè Teoricamente Magari nel 1917 Ne aveva molti di più Eccetera No credo No 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 Che ne ha molti di più Non credo assolutamente E che ne aveva Di più complessi Perché ho visto appunto Delle riprese Ma gli effetti speciali Credo C'è Contano anche quelli veri Non quelli messi in post produzione Ehm Beh Ma a me l'alchina va malissimo Sembra che va indietro ogni tanto No ogni tanto lo passi Non so perché Ma se avesse problemi il server Ah questo Gli effetti spettacolari basta Ma gli effetti visivi Reali e realistici Beh che in realtà ci sta Perché non ci vuole niente A fare un film con un botto Di effetti speciali Mentre farli con gli effetti Premio Perché sono fatti bene Che per carità Quelli di Avengers Non erano fatti male Beh in realtà Anche la CGI del re leone Tecnicamente Vanno considerate come effetti speciali Che poi non l'abbia vinto E ci sta Però tecnicamente Anche quelli Sono tutti effetti speciali Poi non l'ho visto Se erano fatti bene Ok Per quanto mi pianto Eh zio che Cosprit adesso fa la ricotta Non è la settimana scorsa Che c'è la ricotta No no Adesso fa quella marrone Ah Guarda che freno E la camioneta rimane in vitro Come dice Vector Stava c'era la ricotta in Olanda Ah in Olanda E adesso sta girando il mondo Achille Mauro Può trovare degli alberi grossi I finacopings che non sono ben visti No Ma quello si sapeva già Ma molti dei film fantasy A parte il signore Danelli Che aveva fatto lo sfacevo Di cose In generale I film fantasy Ah no Ma io lo so già Che non vincono mai Quei film lì Fantasy Ma fantascienza Ma ci ho fatto una live apposta C'è Ciao E la Nelly ne aveva vinto un sacco all'epoca Ma probabilmente perché non aveva neanche rivali E Joker appunto Joker c'è andato E ha preso così tante candidature Perché Joker comunque è un film anche su La malattia Sono argomenti molto profondi all'interno Quindi Non era C'è comic base Erano tanti e tanti argomenti Importanti E tutto questo Sarà per Mille dollari Grazie bullet Grazie bullet Lasciamo così Fammi tagliare qua il legno Però quest'anno il livello era talmente alto Che il film superioreistico non trova spazio Ma quando mai l'ha trovato Sì Cioè Al massimo se li candidano Ma non vincono comunque Cioè Black Panther è quello che aveva più candidature È quello che ha preso più candidature Della Marvel E non ha vinto niente comunque Mi sembra Ma cosa ha vinto? Non mi ricordo Ma l'ha vinto i trenta L'ha vinto? Non mi ricordo Adesso mi sfugio Però Cioè Comunque per dire E aveva avuto tante candidature E sappiamo più perché Non tanto perché fosse un film della Marvel Ma per il senso e tutto Batman non ha vinto niente Ma Batman che? Quale Batman? Che Batman? No parlavo della Marvel Ragazzi Che c'entra Batman? Costumi aveva vinto Ma va bene Cioè nel senso non è che Io che ripeto Secondo me dovrebbero mettere una categoria E che non puoi neanche fare la categoria Perché non escono così tante Sì Dimmi che non hanno nescono due Sono in una situazione di unpass Eh se in un anno ne escono due Siamo un po' fregati Tipo quest'anno Non credo che ne escano così tanti Di cinecomic E roba del genere Esplicemente non vinceranno mai E basta A meno che Non c'è qualcuno che tratterà argomenti Credibili Particolari Crudi O Insomma Qua ha fatto Joker Alla fine Che Joker non è un cinecomic Praticamente Parla di un sacco di cose diverse Dai 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 Non riesco a tagliar via Ok Io sto Arando un campo Con una mini trebbia gigante Io ho trovato un albero Che dovrebbe fruttarmi abbastanza Stavo prendendo il fumetto Sto riempiendo un camion gigante Io mi sono addormentato Veramente tardi Stanotte senza motivo Sto morendo di sonno Che è Charger Grazie Charger Mi sei tagliato Stato ricordatevi Stasera giochiamo con due subs Stasera c'è Darwin Progetto Darwin Progetto Poi domani invece Ricominciamo un po' con GTA Questa un attimo Che io non vedo morelli Che gioco alla GTA Black Panther lo ha vinto Per il Politicalicore Dai Vabbè Non è che ha vinto Solo per quello Però diciamo Quanto in silenzio Questa è concentratissimo Voila Così andiamo Rust Rust Poi sai che gli frega Di avere l'Oscar Per il Game RUST è tutta una cazzata RUST Non mi ci fanno giocare Tanto Le event Adesso non c'è modo Di giocare Non è vero Quando non avremo niente da fare Certo Certo Chi ci crede più Diciamo che Sì Non gliene frega niente Visto che fanno un botto di soldi Fanno sempre i film con più incasso di tutti Loro basta che ci hanno la saccozza piena Voglio dire Si traga anche relativamente Che c'è un ribaltamento Certo magari Per gli attori Che partecipano ai film Eh ma gli attori Però Non c'è un singolo attore In quel film lì Non è quasi impossibile No non avevamo figura Tra mai Deve essere veramente una performance La cosa che mi fa ridere è che Qui sai il squadro aveva vinto il miglior trucco A parte che non era vero Secondo me Ma poi Aveva vinto il miglior trucco E l'era Ma poi di Amazon Sembrava Una cagata di merda Ah le abbiamo odiato Una sedizione Sì era terribile Maggio tu? Ah è Maggio Maggio Io forse sto riempendo un po' Io spero che quando esce Sia qualcosa di fico Ma Vabbè Se sarà interessante Lo giochiamo Perché la beta era veramente La beta era veramente brutta Ma ripeto Secondo me Non gliene frega appunto Neanche niente A loro Che non vincono i premi Perché fanno un botto di Di soldi Di tutto il resto Eh e questo Io ho quasi finito qua Poi magari prendo l'altra missione Io ho probabilmente Mi ribalto perché sto riempendo troppo Grazie Frank Sto riempendo veramente Troppo 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 Il situazionario Ecco Ok Troppo l'era Allora Guarda che figo Guidare sta metri Troppo qua E fighisco Dovamo comprare È stata la migliore cerimonia Da anni Sia come spettacolo Che come meritocrazia A piacere Avete già visto il seguito Di Suicide Squad Quello di Harley Quinn Non è il seguito Ma quello che c'è adesso al cinema Ma dicono che sta facendo No Non è quello che c'è adesso al cinema Sì ma B.S.O.Fray Non è il seguito Di Suicide Squad Che abbia fatto Un flop incredibile No no ma Suicide Squad Avrai il reboot Non c'entra niente Sì sì ma è il seguito Di quello Che senso il seguito Scusami E Harley Quinn E ho capito Però Harley Quinn È quella lì È uno spin off seguito Tra virgolette Non puoi considerare Un seguito di un film Che hai cancellato Dalla tua Eh ma infatti Non serve un cazzo Grazie Grazie mille Ma infatti in America Ha detto che sta facendo Un flop incredibile Che ha fatto tipo 30 milioni In un weekend Vabbè ma A parte che l'ha spammato Veramente in ogni dove Come No non è un seguito Su Twitch No non è Beh è un seguito Cioè nel senso che Il seguito è quando Riprendi una trama Che è già iniziata No ok Però viene dopo Tecnicamente Allora è un seguito Spin off Cioè Con la storia Continua dopo Continua dopo Quello Continua Sì però è fatto Super Secondo me non è giusto Dire seguito Perché il seguito Non ha che fare Con la trama Non c'entra niente C'è solo lei E basta È un seguito spirituale Ancora ancora Posso buttarlo Ma Sì No vabbè Però comunque È quello No io non l'ho visto Beard of Friends Vorrei andarlo a vedere Guardate c'è anche Sonic Quindi il muletto Lo rido indietro Quale muletto Ma non l'ha finoleggiato Eh appunto Eh sì Non c'è 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 È veramente Un film Che non serve Cioè secondo me Stanno facendo cose Fatte male Perché Se non è piaciuto Suicide Squad È strano Rebuttarlo Che sta succedendo Sto dando l'addio Al mio muletto Intanto lo riprendi Poi Non puoi serpirati Noi Comunque ho fatto 2000 Con tutta quella legna Non male Io farò 10.000 Adesso con sta Ma un po' meno Forse È brutto È stupido Fare il reboot Di un film Che era appena uscito Cioè relativamente appena Perché comunque Del 2017 Su il 2016 Erami qua E lo rifai Con metà Cazzi Metà no Che cosa vuol dire Veramente è una stupida Non so In realtà Sono curioso di Sonic Adesso Sembrava modificato Un po' meglio Vediamo Sì ma non credo Andrò al cinema Ma io comunque No ma io al cinema Mai Da parte per i film Di Stavus Proprio quelli belli Non vado più al cinema Aspetta che escono A me piace andarci Però per il film Insomma Che hanno un po' di più Dovrebbe uscire Suicide Squad Che non è il 2 Ma è un reboot Appunto Nel senso che Alcuni membri del cast Ti parla I Queen Quello con le lame Che non mi sfugge Non è un reboot Scusa È un reboot perché Invece tipo Will Smith Non c'è più C'è Il selva Eh vabbè Eh ma viene considerato Reboot Che cazzata Hanno cambiato anche il regista E tutto il resto Mi hanno detto che è bello Ma non è uscito ancora No Il Sonic Ah il Ghost of Prey Sonic mi pare che esca adesso Poi è già uscito Non lo so Quello è il 13 Vabbè Uno di questi giù Ma no Ma infatti è una cavolata In genere Ma non stiamo Perdo la DC Ma un aratro Gigante Non esiste Sì Beh se è come la mia Trebiata Un passi Però dai E vabbè L'aratro Si vuole un po' Più che altro Quello Veramente piccolo Quello che abbiamo La DC Ti voglio molto bene Ma non è uscito Guarda Ma leggiamo No Non è uscito Più che altro Ma Moro Non serve a rare Ogni raccolto Basta Una volta Ogni 4 o 5 Ma che Ma ci sono delle erbace La merda Scusa Eh Bad Boys Non credo Di andarlo a vedere Al cinema Ragazzi Cioè Boh Per essere così tanto 130.000 Voglio la rata Non abbiamo i soldi Suffici Ho tagliato un po' Troppo a legna Amici Faccio ammettere 17 c'è un pen Fa 10 metri Di E Ma non leggiamo In caso adesso Ma intanto Ho detto che non serve Ma non Secondo me È una gran cazzata Ma perché Ascoltali Scusa Ma secondo me Hanno detto solo cazzate Fino adesso Ultimamente le dici Molti di più te Quindi io ascolterai loro Che senso ha che Faccio C'è tutta l'erbaccia E il grano Sopra E il grano E l'altro Eh sì Senso Un o tre volte Così come Come mettere La calce viva E quindi Che cazzo faccio Semino sopra Questa roba Sì E poi togli l'erbaccia Quelli di serbanti Come al solito No Non è questa l'erbaccia Ah è un altro E allora E l'erbaccia Cioè sono i rimasugli Del vecchio racconto Però cambiamo Non mettere il frumento Di nuovo Ma ho capito Gliezar Doveva mettere la colza Questa colza Sono sei mesi Che te lo dico Ma perché Ma non devi No ma la colza No ma Guarda quello che vale di più E mi hanno detto La colza Mi hanno detto Era qualcos'altro E allora Vaffanculo Gliezar Guardaci te Guardaci A parte come si fa Cosa Bello Basta Chiudo di frumento Contenitore per semi E ma i semi Poi No è la colza Vedi E come No mi sa che Vado a consegnare Prima che esploda La camionetta In realtà qui Sono i girassoli Ma dove cazzo Lo vedi Sì ma i girassoli Non devi guardare Quello che vale di più Gliezar Devi guardare Scusa Eh devi guardare Quello che ti rende di più Prendi di più Qua non c'è scritto Prendi il pellet E i semi Riscegli dopo averli messi Nella seminatrice Eh ma che Anti Che merda Che è allora E prendere il brimstone Eh ma ragazzi E che Joker Come personaggio Va Cioè ha un Una profondità Che Tocca argomenti Molto sensibili E' più facile Che uno che interpreta Joker Abbia attenzioni Dagli Oscar Perché appunto Segue dei percorsi Anche mentali Eccetera Dell'uomo Parecchio Sensibili Un Thanos Per quanto sia Fantastico E abbia Anche lui Le sue profondità Le sue sensibilità Eccetera Non arriva A quella cosa Del Joker Non è malattia mentale Non è Non è malattia mentale Come gioco Sta insomma Che Joker Vinca Abbia più attenzioni Ma perché così Fa poco Far manovra Già qui Io prendo solo Il serbatoio Per andare a caricare Adesso Che bello Il John Deere Amici Che bello è Il John Deere Eh Beh si Io non sono Troppo d'accordo Ha la sua profondità Anche nei fumetti Grazie Simo Grazie Simo Non è il Joker Ripeto Non è il Joker Ma è una profondità È una profondità Diversa Però Menti C'ha la sua La sua profondità Allora Adesso come scelgo I semi Prima ricarico E poi Quando vado a piantare Anche perché Ce l'ho Comunque C'ho i semi dentro Ancora Da prima Quindi Però Però vabbè Ma ripeto Ma secondo me Non vincerai basta Cioè Inutile Appunto Vince Joker Perché la sabatoia scarica Lo scarico Lo posso scaricare Perché c'ho i semi vecchi Non lo so Come funziona È un alberello Lo vogliamo tagliare Non è che c'è Scegli i semi E devi buttare I vertigli altri Eh ma Magneto Anche lì Gliela vogliono Stramocere un po' Voglio scaricare i semi Che ho già Ok Di bro Colai Ho fatto Quello E allora Poi copri gli altri E adesso Con l'asseminatrice Gli scegli Ma cazzo Quindi sull'osservatore Non ci faccio Una sega Ma che La simulazione Vedi Cacchio Condenato Io Ho ribattato Tutto Oh Ho fatto già 3800 Eh Io un film su magneto Lo guardarei volentieri Beh ma c'è Era un bel personaggio Magneto di fastband È un bel personaggio Assolutamente Ma in generale C'è Poi il fastband Si in generale Spendere molto bravo Spendere molto bravo Adesso vediamo Con reboot C'è con reboot Non è un reboot Questo qua Non credo si sia fastbander Adesso No Assolutamente A meno che non decidano Di Darsi al multiverso In maniera ufficiale Non credo che Che cosa che Possono fare Per carità Con Dr. Strange Fare il multiverso C'è Dare a E fare un multiverso Anche della Marvel Prendi Random Grazie 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 Seleziona Seme Marco Sei d'accordo Con il miglior film Io non l'ho visto Ragazzi Quindi Tutto di voi Tutto di quello Che ho letto online Io ho visto Purtroppo Quest'anno Dei candidati Ho visto solo Toy Story 4 Klaus E Joker Quindi Cazzo Botto 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 Grazie Vabbè Avengers Era solo in una categoria Però lo consideriamo Avengers Endgame Un po' di voi Di quello che leggo online Parasite Ne hanno parlato Tutti gran bene Quindi immagino Sia un bel capolavorino Insomma Poi a me Non frega niente Nel senso A me Se non ha tira Che so che non mi può piacere Può aver vinto 18.000 Oscar Ma Se so che a me Non mi interessa Non è caso di Parasite Dico in generale Cioè Il fatto che tutti Dicano che è un bel film Non vuol dire Che me lo vado a guardare Perché deve comunque Piacermi a me Può essere comunque Una trama che mi intriga Se no non ha senso Andiamo a seminare C'era una volta in Hollywood Potevo vederlo 18.000.000 di volte diverse Ma non mi Andava E non l'ho visto Perché non c'avevo voglia Martino Campanaro Bravo Bravo Il notizio è bello Guarda Parasite Parasite Sembra Sembra Intrigante E 51 Dai Non era neanche pieno E 51 Devo andare a consegnare Poi prenderà un altro Contratto Allora Eggi Faccio le spiar Quindi E' un vips Alberto Che figura Adesso ti faccio subito vips E me lo sape Fici quanto manca Anche ora sono 18 Forse un alberello riesco a tagliarlo Ancora in tempo Ancora il C Però forse è meglio se Alberto Ma dovevo abbassare tutto E' impossibile E' pieno La lista è piena Ah no Perché ho sbagliato No no Sono 100 Abbiamo una 40 Tipo Ok C'è il 10 Sbagliarei questi alberelli qui Con il segno veloce Ah ma perché la similatrice Ara anche il campo Un po' Per quello Non c'era bisogno di ararlo Ah Ora dicono che sento La mancanza dei Dei pick up Bisognerebbe comprare un altro Non credo No Provi anche se Addirittura Alberto Cosa dice? Più grande riconoscimento Che mi sia mai stato segnato Dai Marco Che ogni 1000 euro Di legna Ma infatti Mi sto impegnando un sacco Perché Voglio avere uno Scopo Qui C'è Ho uno scopo Non lo voglio avere Te lo dà Tanto lo sai che Quando arriviamo a 299 Prenderemo Un trattore Su 300.000 Quindi tu dovevi Prendere mai più cazzo Eh beh Lo compro di nascosto Vedi che non era Vero un cazzo Che seminava Invece In che senso Non sta seminando Senza rare Era una gran Puttanata No Dicono fermo Dico Ora stai Stattinando Contropello Non so neanche Questo Non so cosa vuol dire Scusami Capisco Scusami Ora vai alla vecchia Ora vai alla vecchia Come i nostri nonni Prima di vang Ma se si potesse farlo Fare io Scusami Magli ha consumati Un po' di semi Può prendere la vanga E farlo manualmente Lo vado a fare io Solo all'inizio Non lo so Quindi è stato tutto inutile Dobbiamo comprare Un altro macchinario Ora ascolta me Io sono un espertone Ma sto cazzo Non è vero niente Che siete esperti Siete buoni solo a parlare Eh Smettetela Drogati Non fa calmo Non fa calmo Basta Continua a scrivere Hanno scritto solo Cazzate Fino adesso Oh Ma leggi lì Che stanno scrivendo Ma infatti tu leggi Un messaggio sì Un messaggio no E ovvio che non capisci Ho capito Tutti esperti Dicono invece Eh ma sconsami No sei tu che sei scemo Che non leggi Eh no Aspetta Prima fammi spegnere Qui le cazzate Che fa un bordello cane Per precedere la campagna Prendi un preparatore Che è più veloce Prendi la vladers Sarà come seminatrice Che ti coltiva pure Conservatore giallo Che lo fa Disseminare senza arare No Non qui No la motosega Non puoi togliere L'erbaccio Mi sa Cioè almeno Non ho mai Non ho mai avuto modo Di Seminatrici Questa Mentre noi abbiamo Perché noi abbiamo Quella da due Che faceva caccare Perché costava un pelo meno Facendo note Devo andare a consegnare Le ultime legne Eh ma aspettate Appena di passare il giorno Perché devo Vole più Eh ma tanto Devo consegnare E poi devo tornare In fattoria Quindi Beh sono vicino Non ci metto tanto Leggi la descrizione Ti dice che fa Da coltivatore Che cacchio sono Amici ma se prendiamo Questa costava il Il coso attaccato dal camion Per fare la legna Lì È laccata Che ha tirato Stavo rischiando Di capottarmi col camion Che stavo facendo la curva E anche io Mi ho comprato le cazzate Porca miseria Che rischi Aspetta Fammi fare una cosa Prima di rischiare Piuri Mentre guidi Esatto Vabbè Tra pochina di legna Ma vabbè Ho fatto la cazzata Mi sono fermato Sui pinali del treno Sono in fattoria Amici Aspettate Perché mi ha scaricato In due sacchi Scusa Ok Quelli li Vendo Ma in A Italia No Italia's got talent Non mi ricordo Quale got talent Uno ha portato La centra Arascanio Comunque Amici Era uno Arabo Compro la star A che quella giusta Ma vedi che mi dicono Tutti diverso Allora Terzi a got talent Quindi non va bene Neanche questo Però sono 10.000 adesso Questa Ho visto bene Fertilizza pure Dicono Quindi è top Del top Meglio di tutti No è quella giusta Dicono E allora va Fanculo Va benissimo quella Io Chi l'ha scritto L'altra roba Lo banno Vabbè Adesso Brucolino Dossidrate sempre I soldi che abbiamo Ragazzi Non puntiteci di comprare cose Quella da 400.000 euro Che è meglio Eh sì ma non ce li abbiamo Dicevo amici No aspetta Che finisco a riscaricare Così finisco qua E ci toglie almeno il Pagamento del noleggio Di questi macchinari C'è un carrello Quello per la legna Eh sto consegnando Quanto costava Quando prendere il macchinario Il carrello per la legna Ce l'abbiamo Marco E questo qui di fianco Il cane Ma vi serve Perché delle volte Mi serve anche a voi Adesso no Eh sì Non aveva Scusami Non aveva neanche I contorni Eh no Cioè Prima sì Adesso li abbiamo tolti Però così puoi legare la legna Va bene Adesso Eh quindi devo portare Poi domani porto il Allora contratto Su campo 12 è finito Ehm raccogli Ok Abbiamo raccolto un buon 7800 Entro in casa io Eh puoi dormire Eh sono andato a prendere Il carretton qua Parlo io Andiamo Perché ora Quanto vogliamo dormire? 10 ore 20 si fai 10 ore Ok sì Bene bene Adesso io prendo Mi serve un altro Contrato Eh io vado a prendere il pick up E mi porto Mi attacco il pipo Stato se Moro fai tu qua no Io Prendo un altro contratto A noleggio Sono incastrato amici Sono elf La casa troppo Minchia moro Dove siamo? Guarda che contratto Io gli ezzaro Sono sotto la mappa Cosa guardo? Come? No entra nel veicolo Fai tab E entra nel veicolo Che ha un contratto Da 28000 Quasi quasi lo prendo 28000 Semina Eh Porta miseria Poi sono del campo 14 Con patate Uso il tuo equipaggiamento Ce l'abbiamo No noleggiamo e via Ma ce l'abbiamo Eh vabbè Ma se lo devi usare tu Scusa non ha senso Tanto è 1000 Di noleggio Eh vabbè Allora fallo Fallo che ci vuole Un botto di tempo Ci vuole Ok Via Guarda fallo subito Guarda qui Tutto qua Ma mi guardo la strada Memoria amici Perché non ha la casa Devo arrivare fino lì Guarda I semi mi sa li devi comprare Però Dici Guarda usa questi qui Usa questi qui Ma allora ti attacchi La seminatrice Cambi semi in patate Ok Aspettalo Forse le patate Non lo so Guarda Questi la ricarico io Tutti in puli Vabbè In caso li ricompro Sì non le ho Allora Ma proprio Uno sniveo Come si compra Vediamo qui Devo prendere i grandi sacchi Nel sacchi c'è Sacco di semi Sacco di cibo Per sui vini Fertilizzante Contenito di semi Per i semi Spero che me ne basti uno Ma non credo Ma può che essere Per il nostro campo Ne abbiamo usato mezzo sacco Eh ma quello Il campo che volevo fare È il 14 Vediamo un po' Sbagliato Campo 14 Beh non è neanche tanto grande Allora Ma no ho ricaricato Quel frumento Scarica Dov'è? Posso andare a 85 all'ora Qui in curva Non è il massimo Devo stare un attimo Più tranquillo Allora Classico contenitore di semi Bravo Marco Certo Quale altro contenitore Potrebbe avere senso Come si modifica Il color di semi Con la Y Forse ho sbagliato strada Amici Altro che mi ricordava Memorie Vabbè sto arrivando giusto Ma Ah no era già Le pinze Perché quello lì Credo È apposta Per seminare le patate Sì ma L'ho consumato uno intero Mi ha caricato il 12% Mi sa che ne devo prendere un po' Ma no no 12% non mi basta Amoro È È Quattro volte il nostro campo Eh ora Non servirà un altro Sì ne prendo un altro Poi mi sono Facci qua Facciamo un po' di manovrette È cresciuta già la merda Qui Ragazzi ma oggi Che lavoro fa E ha detto Fa la ricotta E in Olanda In Olanda stavolta Si è trasferito Poi è Così Quando la ricotta Amici Non mi si attacca Ho sbagliato Scusate Oppure Sarò al contrario Poi devo andare Su 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 La Manovre Non sta seminando Però Invece si Poco Ok amici Vado Vado a muovermi Io un po' carrello Faccio un botto di legna E diventiamo ricchi Ciao Verso l'infinito E ho Olanda Ciao Ciao Morelli Buonasera Marco Eh vabbè Che bello Svegliarsi la mattina Con l'odore di letame Di limone E letame Certo Te lo condisci Giustamente Ma che bellezza Arare il campo Sono perso Ok a destra Non ero perso Farello devo stare Veramente attento Che se mi ribalto Alla fine Per la mappa Proprio Dovrei zettarla Per sempre Siamo Il traffico Alla fine Quel nostro obiettivo È anche Prendere gli animali Poi Certo E' un po' di funzione Ti dedicherò Anche a loro Poi Questo razzo Girare amici È veramente difficile In questo gioco Di merda Eh Speriamo a chiamarlo Esprit Un animale Sembra una genialata Un po' 14 Eh Perciò Li Marla è tosta È scema Non mi Oh ma quanto Vallenti però Qua nel traffico E c'ho un carrello Dietro io Eh Questo mia Che c'è gigante A questo punto Entro in scena io Aspetta Eh Pentecosta Ok Sono salvato Amici al pelo Eh Proprio Al pelissimo Mi serve Molto di più Morbo Forse alla ricotta Com'è Aspetta Proprio Un cavallo Di non essere Ma i cavalli Sono ben dotati Vissa Io direi che qua Abbiamo uno spazio Per muoverci In maniera Agibile Agile Sì È un piano Però Ha lasciato le righe Nel mezzo Chi se ne frega Guarda Oh ma quello è il nostro campo Non è uno Non frega niente Dezzar Non c'ho tempo da perdere Qui a stare a fare il precisino Perché ci sono dei tronchi Marco In mezzo al nostro campo Sicuramente non li ho messi io Visto che sto facendo legna Alla segrella Sembra strano Marco Dopo li vengo a prendere Comunque A meno che non sono quelli Che abbiamo fatto Io e te l'altra volta Certo che sono quelli Ah ok Vabbè dopo li vengo a prendere Che adesso è un po' difficile Ma non cade Non cade Non cade Questo qui Canto Quello tubo Galline e Piacora Ma in realtà Non abbiamo neanche il posto Adesso Quindi Casca Casca il Tudor Alla E Mi raddrizzo E vado indietro Perché sennò Era perpendicolo Almeno la vita Ste strisciate lunghe Adesso vedete che faccio Tutto perfetto Che ho trovato la tecnica Una posizione Una posizione Veramente fastidiosa A te Sti tronchi In mezzo ai coglioni Marco Guarda Ho capito Come arrivo Lì adesso Mi sei incastrato Sotto il trattore Adesso Come faccio E altro che due sacchi Guarda Guarda Porca miseria Porca Poron A me serviranno 10 Almeno Un problema però Perché rotolan via Senza le protezioni Qualco Può legarli Uno per uno Quando li metto su Oppure li devi mettere Ben bene Tutti impilati a piramide Marco No ma sto facendo Quello infatti Alcuni rotolan via Perché sono in pendenza Col camioncino E non ci posso far niente Il posto per gli animali Ci sarebbe Ma prima è meglio Fare un po' di cibo A parte Certo C'è anche lo chef Da fare come lavoro Non so quanto urtano Le striscette Ma dopo le ripassiamo Perciò Marla è tosta E' scena Perché Marla è con la Scania Ti ho detto Che ha Persia got talent Uno ha portato La scena Ce l'avevano fatto Vedere Ce l'avevano fatto Ce l'avevano fatto Ce l'avevano taggato Su Twitter Mi sa Ma io ho visto Da Corny ieri sera Non ho notato Il tag E chiedo scusa Perciò Lì Marla è tosta E' scema Non me il roso C'è Sono abbastanza carino Per adesso Parti meglio Secondo cosa siamo Noi umani Caspiterina E' veramente difficile Stare dritti In questo merda Di campo Questo è grosso Tagliamo tutti i rami Bene Molto bene Molto bene Molto bene Molto bene Tantesco quest'albero Finisco domani mattina A tagliarlo Meglio Così Così Il cicillo Voilà Marco andrei da qualche concerto di pinguini Quello a fine mese Amici al forum Peccate Sarò lì Ho pronotato un anno fa Ma c'è ancora la righetta tra me e Marco Tra l'altro Ma io l'avevo messa a posto Ieri non c'era La righetta Io la vedo La vedo benissimo Niente Qua bisogna fare solo una cosa Adesso Adesso Aspettiamo che ritorno L'operaio E lo Io devo prendere Altro che Bastavano due moro Però sia quello dei pinguini Che quello di rinforo Forse le patate consumano di più Io ho finito Ho finito I due cose Le ho già finite Ho fatto tipo Un decimo del campo Ho caricato l'app dei pinguini Sì Ma poi l'ho tolta Perché non mi serve un gatto Tanto Di campo 6 14 Questo qua Beh dai È molto più piccolo Di quello che ho fatto l'altro Tanto durante Saremo Mi ha followato il gitarista Di quale mi sa che consumano Veramente un sacco Eh Non si conosce o che Però Colazione è A mezzogiorno Otacon Cosa? C'è Otacon là Che fa colazione a quest'ora Si è svegliato adesso Grazie Ma Ormai pranzi Magari fa una cosa assieme Magari mangio le uova Con la pancetta Che può essere entrambe le cose Vediamo come fa lui E poi lo replichiamo Quanto è difficile Che venghi più tolti Lo metto qua Sì è vero L'altra volta hai fertilizzato Non hai seminato fertilizzare forse Un po' veloce Sì sì Oh che è scattato Ma in server non parlo benissimo Il server sono io E' mica tanto Questa che l'altra volta E' un esplosso Capirò Vale che Sono in un Punto che Devo fare il giro Per metterla a lento Allora Allora Dovrei girare un po' a destra Quando arrivi a fine campo Oh Non mi dovete rompere le balle Io giro dove voglio Perché dovrei girare un po' a destra Scusa Io ti leggo Io sono un messaggero Te lo chiedevo a te Naturalmente Marco Troppo Che sfidi Per quale motivo Dovrei girare un po' a destra Non mi basta neanche questo materiale Perché va Non Puoi prendere uno Sì Sì è successo proprio quello Tu giro però Io l'assumo Mi devo fare un avanti indietro Che devo sistemare una roba Quella licenzo subito Certo che Mi da 28.000 Però se con il suo 20.000 di semi da piantare Poteva dare me anche quello Sono dove stava l'inculata Eh Vedete veramente Per caso Non ho seminato Ok Non mi ricordo Grazie Che fai Salvador Adesso non ho seminato 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 io vorrei altra legna però sono soddisfatto amoro taglierò un altro alberello questo qui te lo secco guarda che bello mi sto facendo il falegname io con queste gomme ma qua è un segaiolo mi piace un botto eh un segaiolo eh avete capito come quelli che fanno non c'entra non c'entra li porto tutti qua adesso i tronchi e poi dopo li sistemo per me ci abbiamo preso il via bisogna ottimizzare il lavoro bisogna essere bravi ad utilizzare il lavoro è uno spinuccio Marco ma non so cosa vuol dire bisogna essere uno spinuccio un segugio spinone non può essere un segone domani mattina GTA o continuiamo a farmi? domani mattina GTA facciamo alternato GTA e farm che missioni dobbiamo fare su GTA poi? dobbiamo fare il quello del bunker dobbiamo fare una missione poi ho lo sconto sulla denora quanto posso prenderlo almeno? ok lo sconto poi e adesso non lo apro da un po' tanto anche la DeLorean comunque da due si però si però è meglio che se io posso andare con la moto volante ne prendiamo due infatti lui ha la moto volante io prendiamo con quella ci sta poi mi sa che più veloce addirittura è della moto volante la DeLorean però vabbè la moto volante ha i missili però no io non ce li ho per avere i missili si però devo prendermi il camion interno e poi credi il camion sono tanti milioni vediamo se ce la faccio e intanto adesso che i tuoi milioni gratis e non so se ce la faccio e questo è un milione e mezzo e questo è un milione e mezzo no era un e mezzo e più le modifiche ah vabbè sì beh le modifiche di poi giugnale dopo era eh ma se non va giugno le modifiche eh vabbè ho capito appena il camion perché cosa se non possono iniziare le emissioni di quello e poi infatti sono di con quello perché anche la DeLorean mi sa che deve essere modificata il camion anche la DeLorean mi sa che deve essere modificata per quella sempre dal camion mi pare può essere lo che hai non è il bunker gli ezzarditano cosa? lo che hai su GTA ho anche il bunker ho comprato un bel bunker ok quindi volendo abbiamo anche quello è veramente il su GTA abbiamo talmente tante missioni che possiamo andare avanti tutto davanti io ho messo tutto qua perché continuo a andare all'albero? sì non è esatto che vale quando non hai il territorio piano che devi farti tutto il giro perché se no si è un po' basso per mettere la lente il terror bite poi appunto lo prenderà a marco terror bite è quello che ha soltanto lui ha già la moto non gli serve anche la DeLorean sì non si prenderà più no no nel terrorio non mi serve a niente così poi possiamo modificare pure quelle cose d'altro io ho anche il nightclub ma anche io il nightclub ho preso bene quella settimana lì ho fatto un sacco di roba però devo farmare dovrei farmare un po' anche fuori lì sono un po' pesantino può essere un po' troppo pesante dopo il su GTA 6 online se tutte ste cose saranno già a lancio che non credo non penso non penso non penso perché sarebbe una merda fosse così no più che altro sarebbe veramente tanto effettivamente tutto in una botta però sicuramente qualcosa metteranno in più rispetto al lancio di GTA 5 beh spero su Red Dead non ho messo un cazzo in più e su Red Dead puoi anche mettere il problema di Red Dead è che non è che puoi mettere più di tanto perché vedi GTA comunque puoi mettersi più che altre robe su Red Dead cosa ci metti vabbè ci ha messo roba dopo eh sì ma non è così tanta come su GTA vabbè ma non ha senso che non ha senso che metti comunque niente al lancio perché se no che cazzo non ci gioca è ovvio amici adesso sto per eh ma io GTA 6 penso che lo giocherò veramente tanto online vabbè ma sai cosa è che io purtroppo al lancio non l'ho goduto come tanti altri GTA perché non ce l'avevo tu oh a diventa alle pose eh eh io non ce l'avevo al lancio GTA tu le fai lo so e tu le fai lo so su PC che strinuzzo grazie Gatto gentilissimo per la tua favorità grazie sono stati dire beh tutti beh i DLC più che DLC staggiano sono la classica sull'online che si sono DLC ma con più espansioni dell'online teoria sono a posto e al lancio ti ricordo come se fosse stato ieri sono già passati 7 anni sono già passati era nella Playstation tarare era l'ultimo i mesi e della Play 3 oddio amici quanto devo andare lento io la Play 3 l'ho comprata solo per GTA penso e dopo due un mese e mezzo fin dalla 4 eh si i giochi sono stati GTA e della Sto Pass della Play 3 e anche Beyond 2 Souls che esatto che erano comunque delle bombe di giochi per essere l'ultimo si assolutamente ma infatti mi ricordo c'era la cosa lì che avevano aspettato all'ultimo allora amici secondo me 3000 ce li faccio ma anche di più forse il sogno troppo grande eh Death Pelly grazie Death Pelly grazie Death Pelly è che ogni tanto fa dei laghini e mi esplode la legna ho paura c'era un pezzettino qua grazie a Matt Rude grazie a tutti i belli ma mia che fatica che sto facendo ragazzi ci avrò grazie per le resule comunque allora beh cos'è successo è cresciuto tutto già è cresciuto tutto d'un botto solo che sto schiacciando tutto io adesso ma porca di una puttana fammi andare in retro ragazzi guardate la domanda ma non vedo espli da qualche giorno si sta facendo la ricotta in Olanda stavolta se ieri era su una sezione petrolifera oggi è ripassato in Olanda oggi sta facendo la ricotta in Olanda poi chissà domani dove sarà domani adesso poi lo sentiamo tra l'altro ieri mi ha risposto poi dopo la live ha detto che anche se fa session non me lo dice me lo nasconde scudino grazie scudino 8 anni eh vabbè stavolta non l'ho fatto la riga la riga di pilu nel mezzo qua adesso però la barbiusetta eh sì mamma che marcia posso attaccarlo davanti senza pronti amici 4.934 oh caracca è proprio che con le fascette allora ascolta adesso devo fertilizzare allora quanto costa il pick up 45.000 quello veloce quello lì che abbiamo noi quanto costa 35 invece quello lì teoricamente vendendolo dovrebbe darti 30.000 eeeh per me è proprio quello marco ne voleva un in più ne voleva uno meglio eh ma due cosa ce ne facciamo di due scusa ma era per per farmare assieme ma se voi fate quel lavoro lì basta che vendo questo prendo quello meglio ma comunque ti ripeto che per farmare assieme comunque beh ma adesso lo faccio io appunto però c'è con il pick up l'altro vado semplicemente comunque posso fertilizzare ora prendi il piccolo prima che schiacci tutto ah per me puoi farlo vendi quello che hai e poi farlo come si fa a vendere che non ho mai fatto devi andare sul nel negozio ma devo andare fisicamente allora devo andare fisicamente allora devo vendere no non è vero io sto facendo P fai P sotto garage e c'hai tutta la roba va bene il lizard lo vendiamo devo prenderlo rossa al prossimo io volevo giarlo però se vuoi devi sarchiare ok lo hai venduto utilizzante ce l'abbiamo ancora dentro ha dato veramente poco 20.000 c'è dato l'ho preso 30 vabbè ci sta aiutato insomma oggi adesso è un attimo di più però vabbè il correre principale qua ho giù lavoro completo no aspetta che ho lasciato un pezzo amici vado a prendere il pick up poi torno sopra a recuperare il carrello ma è a primi tab però hai ragione posso tornare a piedi scusa si stavo tornando a piedi no no c'è dalla casa nostra non da segheria ma effettivamente è più veloce sicuramente ed è più si manovra meglio grazie lasagna lughi a lasagna grazie lughi a lasagna guardò quanto è più veloce quanto si guida meglio però questo buon pranzo torno alla segheria torno alla segheria mi sa che devo prendere altri semi però ragazzi è troppo in corso stasera c'è Darwin Project stasera c'è Darwin Project ragazzi si insieme a vosotros se volete giocare con noi scaricatevelo che è gratis da Steam siamo con i sub amici mi mettiamo le password nel gruppo telegram e in chat di volta in volta allora far quel pezzettino latte se no mi da fastidio in una maniera bestiale l'altra volta in generale ci stiamo divertendo quindi Mark prossimo obiettivo adesso basta io farmerò per i miei colleghi per rendere più efficiente il loro lavoro ora comunque per accontentare tutti e due ho fatto il il pick up rosa e le rosse gialle stiamo tutti contenti va bene si è terribile vi avviso il giocattolo di un bambino è gigante allora adesso devo sarchiare non ce l'ho quello purtroppo faccelo vedere mormon sali un attimo col tab il diserbatore ce l'ho gli zah eh no se non lo sai non l'avevi usato tu l'altra volta aspetta non mi ricordo se l'avevo noleggiato è rosa no forse no no è quello che si apriva tutto grosso no il diserbante questo qua si era questo era le ali fausto quello che avevo preso era solo che avevo preso le erbacce non sono già queste le erbacce scusate oddio cosa è successo cioè questa queste sono le piante queste sono tutte erbacce però no la facciamo vedere tra l'altro amici la volete sapere la cosa bellina siccome avevo caricato sto caricando nel vecchio pick up 100% c'è scritto siccome avevo caricato tanta legna c'era il pick up nero tutto sporco di marrone si si sporca spesibile è bellissimo poi teoreticamente ho letto che dovrebbe anche piovere beh l'aveva fatto mi pare no mi ricordo male io non ho mai visto pioggia però è ancora più ma l'aveva fatto tendisco e tra l'altro con la pioggia non puoi fare determinati lavori quindi sbagliato devo riforma 9 ok mi sono attaccato il pipolo a fare altra legna è il sembro della nuvola quindi forse la può piove ah è vero che c'è un tempo può esserlo ma non è così tanto nuvoloso beh pure il cambiamento stagionale non so non mi pare che ci siano i mesi qua ci sono la giornata e basta magari sì non saprei come si può vedere esk no no non dà non dà nessuna news su quella porta so la legna decente io qua in zone ora è luna posso fare i lavori che voglio No, sbagliato Ci mi faccio girare così Con questo tergicristalli gigante Terribile sto posto Marco che non hai finito di tagliare Si è andato via da questo posto Io che sento Poi arrivo a conoscere Vuoi che arrivo adesso? Qui gli alberi vanno tagliati Arrivo, arrivo, arrivo Per le stagioni c'è la mod Ma abbiamo letto che ci sono un sacco di mod Eh ma con la mod hai alcune cose Devi riavviare il server Oh mio dio Che è successo? Le stagioni che dovrebbero essere una cosa base In un gioco del genere Magari pesava un sacco sui server Però se lo fanno le mod non lo so Un gioco di Stimulazione, di coltivazione Le stagioni dovrebbero essere la cosa principale Tardio Valle è il best simulativo A queste cose Puoi anche fare l'amore E' vero Magari c'è una mod anche qua Credo la mod per essere nudi sicuramente c'è in qualunque gioco la prima mod che esce di qualunque gioco cambia le persone Moro sto arrivando non temere potevo lasciarlo qua al carrello vabbè sto provando dietro tutto il carrello vuol dire che lo riempirò di legna della zona qui ti pulisco tutto e lo porto sopra ricordiamo che Marco la season mode è bella ah dopo la legna in giro ma io ho chiesto al comune ma essendo io vice sindaco mi hanno accettato subito la candidatura ovviamente abbiamo scelto una mappa un po' bruttina ho visto che c'era la mappa americana che era un po' più bella abbiamo scelto la Deutschland noi l'americana ha visto che era un po' più bella possiamo sempre rifarlo a fine gioco è sempre quello quindi può cambiare tranquillamente siamo qua facciamo dire il fuoco ha tutto con la benza vediamo poi tanni l'assicurazione che altro la segheria l'ha messa proprio dove ci sono le c'è la montagna e devi portarti tutti sti carri complicati ma perché non sta crescendo il resto? ho sbagliato qualcosa tu che senso? il raccolto? ma ci vuole eh l'altra volta ci ho messo due giorni capito ma hai cresciuto a metà e a metà no ah forse quello è strano ho la crescita veloce si però per metà non ha senso scusa come così siamo qui ascia è bello farlo tanto mi stava seminando ah non è un braccio bello questo però questo macchinario di merda stava seminando si a volte si baga visivamente ok beh devi vedere sin dalla barra sotto se te lo dice e io devo prendere altri semi non è possibile ho speso sette mila di semi o perché poi da 28 mila in fase di crescita ora sto arrivando in fase di crescita si dice tutto in fase di crescita eh mi sa che non ce la faccio a finire però nella giornata qua eh eh mamma mia lizard quanto sei lento eh eh ma guarda scusa eh vengo a seminare anche io non credo che orelli beh in realtà si è vero in realtà poi ma che bellezza è dalla parte opposta perdonami dall'altra parte e quelli vuoi che ti butto giù? certo vado che schifo Marco vado vado se vuoi venire da aiutare vado aspettando quel lavoro lì ti da 200 miliardi di euro eh si poi ci sto spendendo un sacco per i semi devo mettere a bordo strada per non far troppo casino è solo che tu c'è la seminatrice se mi sa per le patate non credo vada bene seleziona il semi si chiama bovino raffanollifero erba frumento orzo avena colt no non c'è caso no lecce no vabbiamo tanto c'è la faccio no dai c'è la faccio c'è la faccio vabbè che cazzo ti devo dire io ora niente questi qua non togliamo potrei metterlo dritto in piano adesso come fai? ah si ma è in piano questo non c'era scritto come non è dritto? si mi hanno detto in chat che te li rimborsano è ma in strada poi mi blocco il traffico moro eh chi se ne frega cazzo loro Marco adesso dobbiamo lavorare eh ma c'è il cassone più piccolo dell'altro? una merda sto furono no è perché lo dovrei aprire tecnicamente ma no lo apri e poi lo devi comunque chiudere c'è la più piccola ma se lo leghi anche se lo tieni largo sì comunque no beh penso che per andare più veloce semplicemente devi caricare la legna più lunga dietro tanto già lo facevo qui non so non c'è non c'è un camioncino dei gelati sì cosa fai Zaza Zaza? vado a tagliarne un altro io perché non è iniziato da quelli più vicini scusa? lui si lavora meglio questo è troppo pesante lo tanto sembra il camioncino dei gelati ma rosa ce l'avete volto il camioncino dei gelati togliamo tutti e dal cacolo dovevo riempire veramente tutto il un po' di patate quel pezzo più o meno Marco non cade questo cade? no prima ma l'ho tagliato almeno è lungo quest'albero è gigante scusami ma è super rilassato in questo gioco si molto molto ma io mi sto divertendo ma lo usiamo anche per parlare ci sta è molto fun anche Riamo si è rilassati Morellino riesce a buttar giù l'albero è divertente non l'avevo tagliato non aveva preso il taglio in realtà si in realtà mi piace però perché è più compatto il pick up mi dà meno l'idea di ribaltarsi è più resistente ma perché l'hai aperto dietro scusami però è quelli un po' più lunghi capito quanto li leghi si sfascia tutto metti quelli chiaro e poi è caduto riusciamo a togliere sto peso che c'è qua ma l'ho preso dagli inizi si io direi che per adesso ma qualche parla gliela diamo qua casca tutto no amici ormai è sentito con un esperto non si ribalta niente ma questo è il mio albero perché mi tocchi vale la pena come gioco questo è quello che ho buttato giù questo è quello che ho buttato giù io è vero è questo il mio è un po' tipo i road track alla fine la stessa roba è più o meno beh no nel senso sono quei giochi rilassanti questo è più attivo è più attivo si ok questo qua è un po' diverso però sono quei giochi si vuole sono tutti quei giochi rilassanti ora io inizierei bravissimo ma che cacchio moro questo punto traiamoli proprio come se fossero dei bambini che devono andare a letto così rimbocchiamo le coperte signore stia attento ma che macchina io la mia sorella io le rimbloccavo le coperte quando ero più piccolina ho proprio un fratello bravo è vero eh sì dai sì Marco bello via lo rilasciavo con la motosega ovviamente è pericolosissimo oro ho visto male forse eh penso di sì non ho fatto niente così stavolta guarda come li stia mettendo bene sono proprio fiero guarda un po' fiero lezzo penso dovevo gridere moro leggi chi devo leggere moro ti è stato tra una ventina di giorni mette il grisolo 4 verrà tolto dal ps now ma dai amici purtroppo ci inculiamolo beh magari verrà rimesso perché tolgono le roba perché ora che arrivi a fare il 4 è anche lì la cosa dei contrasti perché uscirà vero no? marco è fermo il webcam ma ero fermo per davvero magari era un cioè nel senso sono tutti i due fermi anche gli ezzar è fermo forse hai tabbato nella finestra moro non ho mai tabbato ma scusa no siete fermi proprio nel sito aspetta provo ad aggiornare storia ecco lì erano proprio fermi nel sito che lungo questo moro me ne sono accorto mentre lo portavo che lunghi è un tronco intero lo metto qui è lo traiatino no il pistolon qua eccolo il puntale il sito è gratis farming da nessuna parte perché era gratis fino alla settimana fa con l'epic game storm è perché guarda quanto era lungo già così questo ci sta qua non è più gratis moro io una fascettata all'inizio gliela darei qui facciamole qua conviene non fare L dalla macchina conviene proprio che li fai uno per uno fastidio che c'è il pennone che fa alzare tutta la la regatura ma moro non lo vedo più di nuovo fammelo spostare che hai fatto un giro su te stesso che ballerina che sei chi? tu ma tu sei un drogato fammi tagliare la lega guarda un bel po' questo qui si carica tutto intero Marco non tagliarlo vai vai crescono gli alberi no perché mi sa che devi ripiantarli cioè forse si possono ripiantare gli alberi anche il campo di alberi no non credo sei sicuro di far sta roba va bene che è pieno di alberi un altro albero Marco questo qua ma moro ma che fastidio la prima curva volo di sotto con tutto l'ambaradale non l'ho mai guidato ancora questo puoi andare tu in segaria poi lascialo lì e tornato a bando qui che mi serve lì in zone però adesso come si taglia questo albero Marco faccio io moro ti preoccupare sono un esperto no aspetta che togliamo gli spennacchi rotola rotola come Shakira come non l'ho capito che rotola come Shakira certo non l'ho capito eh miro la rotola ah si ma guarda che schifo almeno mi sa che questo lo devo ripistemare qualcosa mi dice arrivo con quest'altro Marco eh aspetta che devo legare a modo ma che palle moro non esagerare per favore questo va tagliato moro no non va tagliato stai fermo va bene non va tagliato anzi c'è un altro qua aspetta io lo so che succede se riesco a compiere l'impresa qua facciamo sui 5.000 ce l'ho fatto io prima 5.000 praticamente ora questo come si prende così no 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 devi spellarlo eh lo so ma bisogna che lo lasciamo cadere prima che duro che sei ora che ce ne stanno ancora un botto Marco eh eh io ho paura che tu ti ribalti alla prima curva però Marco ma non è possibile come mai come mai adesso esageriamo no questo è troppo grosso non va bene ma fra che non cade scusa ah l'ho spennato al volo fino alla punta ehi 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 dov'è il camion ah mi ha fattuto ha messo i ladri mod fammi fascettare moro non perchè devi fare deficiente guarda che ti fai male col mio camion che non è Marco hai troppa paura questo è gigante moro dai no non si può moro questo qui non si può torniamo in un secondo momento moro questo no ma ci sta ancora un botto di roba abbiamo il cassettone con le cinghe ma questo è gigante come lo figlio vabbè quello qui adesso un attimo dammi il tempo che ci penso io sminocchiamo questo qui guarda lo tagliamo qua come lo sminuzzare uso anche il cassone mazzo è troppo pesante moro ma tra l'altro sono le 5 moro dai dai muove il bus muove il bus questo lo metto nel cassone moro secondo me ci sta riesco a infilarcelo guarda guarda non guardo Marco sono secco secco guarda che bellezza moro ti ho legato anche addirittura l'ho legato con quello dietro quindi non girerai mai giù non girerai mai sono tornato hai fatto un blocco ti ho fatto un blocco di cacca piere piere 95 che fa 28 mesi grazie guardalo guardalo che sta entrando in crisi fai prendere gli altri che hai buttato giù qua ragazzi alla prima curva lo ritroviamo in calabria lo ritroviamo in calabria la prima curva salve ragazzi sono tornata grazie due piedi come gli anni di gesù due anni prima che ne compisse 33 giusto porca bella grazie mille tutti ma facettata manca mancano pochi pezzi guarda qua sono riuscito a farcelo stare sono bravissimi bravo mono segreta cisterna che ha ripartito l'f3 tra i mesi che vuole lei questa macchina rosso etrusco vada rosso etrusco non è rosso etrusco che rosso etrusco c'è la macchina rosso etrusco ma non è quello certo che è quello ma non capisci niente ho comprato la concessionaria così ah camicia mi ha partito via il trunchet ma cazzo si girano ste cazzate di tronchi guarda come l'ha infilato precisamente dopo infilandole uno escono gli altri veramente gigante mamma mia che velocità ragazzi ma ho quasi messo sotto animale animale perché lo rincorri allora Marco adesso bisogna fare un piccolo trucco qua allora ho fatto io ho fatto io a posto anche dietro dietro lo faccio subito fatto maro puoi andare sei solido aspetta eh no no che paura ho visto scivolare tutta la mia vita allora vado Marco ti prego Marco non gira io ti seguo Marco non gira non gira non gira ma per forza hai legato lì quel puntale è tutto solido allora bisogna saliamo no 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 vediamo cosa vuoi fare allora come si stacca qui il come si slega R ok boh non credo maro però fai adagio maro guarda che c'è la salita da fare non ce la si fa e non andare veloce alla massima velocità per favore che osciglio ragazzi come finisce male sta cagata basta guarda che passo per il campo che se no ci metto sei mesi eh mi sento già devi poi raccogliere subito la cosa perché ho detto che sta arrivando a piovere quindi poi non puoi più farlo lavoro va bene lavoro va bene già se non è maturo che cazzo raccolgo eh provo a vedere magari lo è maro seguilo a piedi ma non ce la fai ok effettivamente le previsioni danno pioggia lo seguirei più col trattore ma arrivo domani mattina faccio i 100 moro no no marco vieni con il cane con il trattore porca miseria porca miseria porca miseria aspetta forse è forse ma poi cosa faccio col trattore come se dovessi finire sei sulla montagna non ci arrivo col trattore no 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 che non sono sulla montagna marco che cazzo di domanda marco perché hai fatto fare il lavoro a lui come faccio il senso e lui voleva farlo ci teneva il pirla ho detto farlo tu ma ci sei ribattato io sapevo che andava a finire così oh oh sto trascinando la macchina si è vero sei fortissimo con i legni in mano io l'ho spostato da una montagna con un pochetto su allora una l'ho ritirata su arrivo arrivo marco non ti preoccupare no ormai sto arrivando marco non mi vuoi aiutare non mi aiutare le parole prima guarda guarda faccio i cento non sapevo che andava a finire da schifivo stai mettere in prima persona guarda che vi vedo anche ma che palla volevo vedere sto disastro invece vi vedo ma devo girarsi con l'alizzo eh si curva brutta devo far qui e gira bene il frattore cazzo ci fate lì poi non è scusa ma che ne sto si passa qua si passa ma Roma quindi sono cadute tutte per terra no non è caduto niente marco c'è solo una si cosa hai fatto? ho provato attaccare il corsa arrivo 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 non è possibile sono quasi lì abbi pazienza ce n'è benzina nel trattore? si ce n'è tranquillo sono quasi a destinazione che qua va a 25 km orari un po' in salita purtroppo ora sto vedendo delle cose da lontano vedo una persona braiata di colore rosa non sto guardando da quella parte perché c'è un lavoro di palazzare fare quando mi metto in prima persona qui c'è un lavoro di fino da fare ma dov'è che sei? quasi qua arrivato quasi qua ma col trattore piccolo potevi prendere quello grosso? ma che è quello grosso? basta questo qui ma guarda te Con il Fiat arriva lì col macinino Cosa supera le Cosa suoni Cosa suoni E mi taglia la strada Allora vai da di là che c'è il problema del palo qui Da di là Marco Sto facendo manovra Manovra bastava che andavi di là Marco Di là Ci passo Moro ci passo Spressionista con crie di parlare Moro ma se faccio così si ribalta completamente Marco per forza Da di là Da dietro nel culo del carro Dopo se si ribalta completamente Non ti devi preoccupare Guarda Moro io mi son preoccupato anche solo Di aver iniziato questa situazione con te Vedi Vedi vai Aspetta ci vuole un altro polpo Vuole bello energico qui il polpo Perché ci metto mezz'ora No aspetta mi salto completamente Intanto io raddrizzo La macchina eh Poi basta anche me lo dicevate Vai vieni qui col trattore Ero già qua Aspetta Moro Guarda Adesso do una botta dall'altra parte E torno in bolla Guarda Marco intanto io Ragazzo la macchina Guarda A posto Moro Vedi Vedi Ti seguo però per sicurezza eh Bene? Certo Moro purtroppo è un pezzo bank Andiamo Guida per bene E' che se giro a sinistra Mi puntella Non da girare allora Non girare Guarda qua c'è la S La curva S Vai piano Moro E qua ci metto mezz'ora a salire Eh ma se mi ribaltavo anche io Arrivavo anche di Ezzar Si ribaltavo anche Ostia Questa è tosta Falo ribaltare E qua massimo 25 km orari Amici Troppo Questo qui lo posso raccogliere Moro basta mettere roba sopra Ah ho capito Ho trovato un legno così spaiato Eh perché l'avo tagliato io No no Questo qui è Porca miseria Mi è caduto Sta diventando notte Guarda che c'ho mille luci Poi devo riportarlo anche indietro Sotto la torre Capito Quella è la cosa Niente non si sta Marco Proviene la segheria Arrivavo No Marco Non dirmelo No Marco Ma come hai fatto Ma come hai fatto Col trattorino di merda Marco come hai fatto Penso io adesso Marco Non disperare Ma che succede Ho guardato un attimo Dove eri indietro Che succede Adesso Adesso con il rimbalzamento Vedi Non riesco a tenerlo Marco dove cazzo Stai andando Grazie Grazie void Grazie void Ciao void Grazie Eccomi Che paura Che ridere Amici Ho visto una scena E' stato veramente Tutto troppo lento Tutto troppo lento Allora forse è meglio Forse è meglio se torno a casa Mi prometti Che non ti ribalti Dicono a me Che mi ribalto Su una tracca Almeno io ho giustificato Che vado a 150 Ho capito Tu lo fai apposta Io qui No Perché tu sei nato a 100 E' zio Ma perché ho preso Una rampa Che col peso specifico Del trattore Mi ha ribaltato Ho guardato un attimo Dietro dove era Moro Perché lo vedevo Nella mappa Ma non lo vede Ah qua c'è la scrocciatoia Tra l'altro Scusa miseria Che ridere ragazzi Mamma mia Che ridere Dai che poi vado in discesa Basti In altri due passaggi Ah sono tranquillo Ci metto troppo tempo Questa Marco 8000 dollari Se sei già arrivato Mi hai visto tornare indietro No 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 Mi hai dato a me 5000 prima Mi ha dato a me 5000 prima Mi ha dato Sarà 6000 almeno 5000 Eh beh Cosa pretendi Sono comunque legna 6000 ci sta La lascio qui Marco Quindi Si lasciala lì Adesso devo riportare Il trattore indietro Come si fa Le Ester Dormo? No 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 Io devo fare l'ultimo passaggio È veramente l'ultimo passaggio Secondo me stai mentendo Sto facendo una giornata intera Tanto porto indietro il trattore Che va comunque A 25 km l'aria Anche in discesa Io non capisco Uno Forse due Non lo so Depende se me lo conta Come è finito Con il prossimo passaggio Io voglio fare una roba Intanto Perciò Che ridere ragazzi Sto per arrivare Dove è successo Il misfatto prima Eh vedi Ma è in fondo Sto guidando Aspetta Mi sa che non me lo conta finito Guarda il progresso Quante Ti è svuotata la benzina 97% Posso stare anche in mezzo Ma che bellezza Che bello Lavorare di sera Con le luce Cinefilesse È vero Quello è vero Adesso Io non sto lavorando Sto guidando Però Non ti vedo Eh sto arrivando Sto facendo la curvuna Eh ma in discesa Ma comunque A 25 km l'aria Non è normale Ho il massimo Che può raggiungere In generale Proprio Ciao rosso Ciao rosso Ciao rosso Sto giro Per far benzina No non la faccio Ma va che bel posto Però che è Eh Pratto super Quattolici Finito Dai Mi finisco Ma raccogliere Ma dai Che pale mi hai fatto cadere Sto salto il camion Sto il culo Eh però non li ha rimborsati I semi 28.000 Ah no Sì 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 Era 90.000 Quindi si ci ha dato 35.000 Praticamente In totale Ottromo Ottromo Posso dormire Quindi Eh per me sì 10 ore Va bene Eh sì Io prendo un prossimo Contratto No io voglio Un contratto di trasporto Voglio fare Piove Piove Perché tanto adesso piove Questo giornato Di merdo Sono sotto la mappa Amici Eh fai tab Sì Sto riportando Che nuvole brutte Sto riportando il trattore A casa Vado a vedere il nostro Raccolto con me Beh Un mace fa Ma che è pronto Vedi che un po' è pronto Un po' no In fase di crescita Pronto per la raccolta Pronto per la raccolta Non vorrei che poi Marchisca È strano Che pezzi In sua Non lo so Ma per chi cristalli Nel trattore Arriva dall'alto È staccato dall'alto Per chi cristalli Di solito è dal basso L'attaccatura Invece Nel trattore È da solito Eh no Nel trattore Sono all'alto Fate fare una canna Nella veranda dietro Adesso vado Diamo dei contratti Cosa c'è Qui c'è lo spazio Per fumarsi le canne Dai I contratti sono Sono un po' cagosi I contratti Fa vedere Eh c'è un massimo I 10.000 Pensate perché piove Probabilmente C'è da 5.555 Eccolo lì Però devo comprare Il muletto Quello bello Ma serve il pick up Amoro? Sicuramente sì Trasporta oggetti Da porto nord ovest A hotel del castello Allora Dov'è Dov'era il Lo prendo? Eh sì sì Ti dicevano di togliere La crescita veloce Quando è raccolto È pronto Ah per Non farlo marcire Eh togli togli Perché se no L'altra Però non capisco Appunto Sta Sta divisione Non ha senso Dov'era Quanto ci sto mettendo A arrivare Questo trattore Del cacchio Allora Ah scusa È vero Stavo guardando Gli attrezzi Ecco perché Non lo trovavo Devi noleggiare No lo compro Ah lo compri? Eh Il muletto Ti serve Però prendine uno Di 100 E prendo quello Che fa tutto S Da sto punto Io vi seguo Tanto qua Non serve a niente Perché non cresce Sta cosa Amoro Volendo c'è un trattore piccolo A cui puoi montare Gli agganci Per il muletto Ma non me ne frego Un cazzo Perché poi Non devi comprare Gli 6.000 robe E fan cagare Voglio comprare Questo Certo Ho detto Marco mi hai rubato Il muletto No sono io Buonasera E portalo Portalo a casa Che intanto io Prendo il furgoncino Che Marco Non sta lavorando Qui No Non sto arrivando a casa Sono appena arrivato Avescio Marco Però eh Io voglio lavorare Moro Allora perché Non hai portato Il furgoncino a casa Perché avevo il trattore Da portare a casa Per i tuoi casini Ah bello C'è anche il cambio A modalità sterzo Che non cambia Ah Ma dov'è il muletto nuovo Eh sto arrivando Ma grazie Otacon Grazie Otacon Grazie Otacon Non dice niente Che non è un muletto Tra l'altro È veramente Un sollevatore incredibile Eh ma può sollevare Ora l'hai lasciato lì Il carrello Il portapitto Ma sai che non posso Sollevare Perché lo porti via Ma che si serve Serve? Ma non credo Che possa sollevare Però le cose E come le attacchi Non hai così Gli spuntori davanti Ce l'abbiamo a casa Il forche Che bello Il castello di sabbia Indistruttibile La forca per il muletto Ce l'abbiamo già Sì l'ho vista prima Dove l'abbiamo messa? Questa qui? Era qui No era qui Dentro Qua 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 Eh questa qui è vero Devi premere CTRL Ma perché? C'è scritto un altro tasto Scusami E come però Come la Perché c'è scritto così E invece non era vero Eh non la fa attaccare Però no Prendila dal verso giusto Lo vedo Pietro Morelli 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 Che miseria Gli zara Innanzitutto Eh Devi ribaltarla Eh Spingi vai avanti A posto Fai indietro Tira sulla Adesso era venuto Adesso era venuto Vai Quina tu Che dire luci però Fai home Dove dobbiamo andare? Il Non vedo Al nord ovest Deve andare Porto nord ovest Era il contratto Ok bisogna consegnarla Sempre al castello di merda Bisogna consegnare Certo Contrata trasporto Sono quelli borghesi Che richiedono le cose Bastardi Prendere al punto giallo No? Sì Non passare sul raccolto C'è quello che voglio Ma guarda che c'è un punto Che è cresciuto ancora meno Tra l'altro Ma non ho capito Questa è differente Io che faccio qua adesso? Però che palla Voglio più contratti Fatta Che max Eh io aspetto qua Che cresca Il coso Non si può raccogliere Mentre piove Quindi? Ma forse Non mi ricordo Se non puoi concimare O raccogliere Non mi ricordo Però tanto Non ha senso Non posso raccogliere Metà campo No infatti Posso in realtà Ma non Non frutta niente Quanta nuove posso? Non puoi Ma rovini Rovini Per il resto No Raccoglierei anche L'alp C'è Lo mettiamo io Eh ho capito Eh ma non so Neanche il perco Togli l'appassimento Delle piante Allora tengo veloce Tolgo l'appassimento Delle piante Però Perché almeno vediamo Se cresce Appassimento delle piante No C'era già Ero a posto Beh allora La crescita Non ce la lascio Sì Eccoci qua al porto Ho anche a mettere Le galline Non abbiamo soldi Stavo Ricominciare a fare Sì entrammo qua nel porto E l'arrivo Ah qua Boh è easy Beh non era Chissà quanto è la Eh ma il nord ovest Deve andare molto in alto No ma quei col pk Qua ci arrivi in un attimo Fa anche con il muletto Vi do mora Poggiare la caratteristica Certo Che è molto più veloce Di quello che avevo io Oddio hai tagliato tutto Però Dove erano i punti Eh non so cosa Ma sono i Sono qua i Cosi No devi vedere Proprio dove c'è scritto Porto nord ovest Ma se la rete è qua Marco Può venire col camioncino Ma perché Ma ora mi sono Infiastrato E va Caspita si passa Questa roba Pissio Ha vinto anche la moto Della neve No non abbiamo nessuna Botta Dove sei Morelli Non vedo niente Sulla mappa Ah ecco Ma lì siete al più gas Eh ma c'è lì Il punto giallo Aspetta ce l'ho fatta Marco Per gli addominali Ma dove sei Io ti vedo nella mappa Ma non ti vedo nella Hai capito Se c'è il palazzo in mezzo Non mi vedi No Marco Eh ma perché Siamo interessati lì Poi c'era il Piunto Sapete che non ti basta mai Un viaggio Ma a me sono giganti Ste robe No tranquilli Ma non dovete Prendere quella Vedete qua dove sono io Moro ma perdonami Come dove sei te Perché posso Teletrasportarmi A posto Ah scusa ma Car miseria ho sbagliato Il porto lord ovest Dovete andare Ma sono giganti Sti lavori Moro No è qui Sono questi Ma siete sicuri Sì Ma questi come cazzo C'è il punto giallo Lì Come le tiri su sta roba No ma non sono questi Marco Sono di là Sono laggiù No è vero Sono i pallet piccoli Che cazzo guardavi Che ne so il punto giallo è lì No il punto giallo è qua No sono questi Non so Si va Può anche prenderli Aspetta che devo andare No non c'è bisogno Faccio la torcia al borso Non lo sapevo Eh Mi facciamo Però me li metti dietro Quindi Certo Lo li vuoi mettere Nel Sono Al campo Lo ho fatto a mandraccata Non si può fare Aspetta Amor Mettili qua così Bravissimo Mettilo qua Che lo leggo subito Togliere le fascette Aspetta eh Questo te lo butto nel cassone Ma sei scemo Così di bozzo hai girato Dai Aspetta eh Adagio moro eh Morelli Molto adagio moro Eh Perfetto Certo Prego Le transporter Al pelo Bravo moro Qui E che ti metto le fascette subito Mettilo qua 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 L'ho attaccato al verde Guarda che perfezione moro Che cibi Guarda Marco Metti giù La fascetta non prende Qua sì Dai vai Lascia lascia Ma è attaccato Ma è una bugia Vai Rifai È attaccato con le fascette Scusami Beh Vai avanti ancora Ok Scusami Proviamo attaccarlo di nuovo Con le fascette Eh no Non funzionano le fascette Devi andartene via per bene Voilà Ok Questo Ce ne sta un'altra Secondo me Una voglia Marco Che vuol dire Ce ne stanno altri Un tot Ce li facciamo stare tutti Ce li facciamo stare Marco Dai vai Poi voglio vedere Poi uno Uno lo tengo io Nelle forche Quanto ci dà sto lavoro qui? 5.000 Ma è una giornata di legna La facevo io Ci metto anche meno Capito ma Dove sta No certo certo Dobbiamo fare tutti i lavori Ovviamente Dobbiamo essere Pluriedrici Io sono sempre stato Pluri Omicida Oh Pino lo crescere un caccio Uno sopra l'altro Se riesci Dicono E adesso Con calma Prima Mettiamo così Sottamente Moro Sottamente E di se Lasciandolo Con la fascetta Rimane Cacchio Moro Perca miseria Doppia fascetta Moro È attaccato Non mi sembra Problemato Una bugia E se salvo Magari aiuto Guarda Sembra un'anguilla Sottamente Con il mio peso specifico Ma certo Gli edward Che ci stanno Vedrà Ne metterò tre Ancora Puoi vedere Ci mettiamo un Sei lavorato Tu eh Allora Metti a modo Che volo Ok 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 Marelli Perfetto Questa l'abbiamo Stiamata Guarda te No il fermo Non serve a niente Ragazzi La cintura È inutile Vabbè Adesso sì Serve solo per Fissarlo Una volta Che l'ha poggiato Ma io lo posso Togliere di mano Con la Con la cintura Marelli Bravo Sei proprio Un elefante Grazie Infatti fa un po' Il verso Del Allora Marco Adesso io questo Te lo appoggio Toggo le fascette No Non toglie le fascette Che idea del cazzo Rimettile Eh ma tanto Se lo toghi Eh ma Spacco tutto Spacco dopo Invece te adesso Devi essere Preparato E pronto Vai Adesso Bravissimo Marco Bravissimo Bravissimo Mamma mia Ho rischiato La morte Ma io ho la prima curva Tutto a destra Vado eh Fammi contropeso Qui moro Adesso ti faccio contropeso Marco Non ti preoccupare Che facciamo tutto a modo Eh Anzi Quello qui Probabilmente È meglio che te lo metto Nel cassone del camion Ma sei sicuro Guarda che non c'è tanto Dove va Ma l'header ci notte tutto eh No Trasimite il trasporto Tanto ne basta che ne metti via uno Moro L'altro puoi portartelo tu Sì L'altro lo può tenere lui Alle Alle All'istituzioni Eh ma in realtà Pogari ne puoi tenere anche due Uno attaccato da una parte L'altro dall'altra Copriamo solo La parte quale sarebbe Scusi No I due ganci Con un gancio ne prendi uno Con l'altro prendi altro Eh non è così semplice Eh ma è un casino Prego Moro No facciamo Marco Facciamo Io voglio caricarti di tutti Contropeso vai Quindi capire dov'è Ok Tolgo le fascette No non devi togliere le fascette Se non le tolgo Non attacca l'altra Ah una basta Togli ne solo una Vai Allora Marco eh Ok Oh Allora aspetta Marco Non abbiamo finito Mamma mia ragazzi Che perfezione Termobest esce Questa settimana Eh sì Io che paura Io appena stacco E moro Mettilo più dietro No adesso lo metto Al bordo dietro Quattro Così usa l'ultima fascetta Se no se stacco l'altra Mi finisce nella testa Ma che spettacolo Moro Guarda qua Bravo Pronto io A fare l'uomo della magamba Certo Marco Cosa stai andando? Sto raddrizzandomi Perché L'importante è essere dritti Nella vita proprio Dico eh Anche le donne Proprio in generale Certo Parlando del pena Marco Sei stato veramente lento Marco no La cintura non è mai andata Adesso come facciamo Eh lo porti tu No no Lo prendi e lo metti Al contrario Porca di una puttana Marco Mi fa incazzare La fascetta Non è mai andata Sopra il legno Vai Ma posso prendere Oh la mano Sono fortissimo La contropeso Eh niente Salgo sopra Marco me l'hai storto No io non posso Non ho peso specifico Gli oggetti Non ribaltiamo Aspetta eh Bravissimo Ma impicozzalo Amor Cosa? Paura che mi stocchi Che faticone Guarda te Per l'amore Per l'amore Per la ficca Si lavora Si fatica Mi devi dire tu Più basso Più alto Lo giralo Giralo un pelo più Ok Vai Questa che sto campo qua È tutto da buttare Io La fascetta Non supera il legno Qui io Come mettono l'attacco Mettono proprio sopra Forse è bancato Ebbè non è possibile Che neanche quello Che non è piaciuto niente Non è neanche diventato giallo Giusto per Oh che caspita È uguale a prima Faccio vedere dove cade Io così in alto Cade esattamente lì Amor Vai Prova Sembra non staccarsi Ma non ti preoccupare No Sì È un effetto ottimo Fa la fascetta Non lo prende Non si infina Non c'è Sono pronto eh Ma riportalo giù Riportalo giù Kim Jong Un Marco facciamo così adesso Guarda Che pazzo Mi casca tutto in terra Non posso Allora sfascetta e fascetta Bellissimo Marco Perfetto Mamma mia Ma che lavoro del cazzo Come ti permetti E che ci può uscire dall'altra parte Perfavore Questa rimane Il pezzo di scotch Attacco tra il dito Che non riesce a staccarlo Perché ti si riattacca L'altro dito Marco Mi raccomando Vai con cautela Eh Dato Dato Poi dobbiamo entrare Faccio la porta Direttata il castello Mauro Quale macchine Mi toccano a sinistra Eh Digni che in maleducazione Non fartelo Mi fate un puntale Oddio Ho l'ansia Ragazzi Nemmeno durante Tifa Quando dibattere i ricordi No Ma la compro la casa del cane Perché Non abbiamo cane Perché magari crea il cane Eh ma magari Ma che crea il cane Stai fermo Con il cane Che fa il cane Chi aiuta con le pecore Che non fiamme Qui con la campagna Ha costruito la forma di cane Per ripetare un cane Eh Ecco E con l'aria Come la buttiamo giù Tutta sta roba Vieni tu Pinza una macchina Si potrà fare No Moro Pare ci avevo provato Quello Che cosa 2500 euro A cucciare il cane 2500 euro Questi cazzo Qui si entrava nel castello Da che parte Moro Da qui Praticamente Dalla 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 fattoria Andava Sì Cane va comprato Vediamo Ma io sto arrivando da dietro Come si può Gli animali Un pollaio rende un botto Eh io quasi quasi Un pollaio piccolino Lo farei Non costa Quanto costa 20.000 Tutta Ormai ci sta Ma io venderei Vendiamo il cazzo Un pollaio qua Ma qua Non ci fa il cazzo Non costava niente Eh ma tanto Non ci serve a niente E' vero eh E meno li mettevo il pollaio Sì E' un coso di amianto Che cazzo è E' il mercante di bestiame Qui Di bestiame Eh quello Mi sa che Aspetta Fammi vedere Vendere qualcosa Io non mi ricordo Da dove si entra Ragazzi Ossia che dura Che era A parte si entrava Ma sono durissime Le macchine Dei Non si può fare Guarda che parte Si entrava Pesano troppo Pesano Eh ma Come si vendevano Le case Ho capito Con me mi ribalco Ragazzi Adagio 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 Che ansia che ho Sempre nel garage Ah Ok Easy shred 12000 E guarda Ce li faccio Come funziona Il pollaio Adesso Io non ho potuto fare Segui Segui Un po' di questo viaggio Ma i pesi che abbiamo Per il giorno 10 Ci servono Ma se no li rivendo Ce l'abbiamo ancora uno Fermo Al 500 Eh ma ce l'abbiamo Fermo ancora uno Al negozio Si e voi vendi Guarda adesso Non c'erano il servito Il capo Vedi due 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 Si almeno Mi vuole la tua strada Io Eh non lo vendi Sono andato fino in città Moro a me servirà una mano qui Ah merda però A me servirà una mano Eh poi mi ci serve Eh come li scarico io Non ci bisogna che li scarichi Mi sa di sì invece Perché devi andare L'altra forza Ma forca puttana Ma aspetta Adesso vediamo Prima rimotto Eh però Moro Passa un attimo In fattoria A fare Perché ci sono due Cosi qua Di concime Da spostare Perché sono qua Adesso in mezzo al niente E vabbè Quelli ci costeremo Eh più che altro Perché se volevo Costruire il collano Avevo costruirlo Proprio sopra lì E perché mi sa che è grande Sì però rimane Pollai C'era 20.000 No 40.000 Non c'era 20.000 Credo proprio Che noi dobbiamo Caricare tutto Ruota Visuale Ma va messo Sull'erba O sullo cemento Pollai Credo Sull'erba Moro Ne ho ribaltato qualcuno Moro Moro Si è ribaltato Lascia stare E io come faccio Adesso Andarlo a prendere Moro Ti prego Ormai tanto Non ha senso Far rubire Le cose Moro Aiutatemi No è passato Il treno Ma Treno Merda Treno Merci Cacchi Perché non c'è Topol leader Eccomi Voila Mi sono moreni È piaciuto tutto il campo Tra l'altro Quasi Non facciamo Guidare il moto La fascia finale Mi è piaciuto Tutto Quanto è forza Messo Guarda che Perfezione Far manovra Qui di un casino Comunque è cresciuto Buon tempo Tranne l'ultima fascia La Che sta crescendo Il mercoledì Si può raccogliere Posso salire qua Fino da Marco Aspetta Va veramente un cazzo Questo muletto Riesco a fare una magia Moro Sono un maghetto E vabbè Non posso metterlo Da nessuna parte Il pollaio O lo metto Sul cemento Non ce la fa Non ce la fa Devo andare di sbiego Che bestia Moro non funziona Devi venire tu Troppo non va Mi limpi Mi limpi Purtroppo il muletto Non riesce a salire Fino lassù Non è vero Sono salito col muletto piccolo Non arriva lui Ma questo fa cagare Il muletto piccolo Andava a 3 km orari Ci arrivi dopo un po' Però ci arrivi Ti aspetto Anche Sheldon ti aspetto Non la prendiamo mai più Perché a una certa Dovremmo anche nutrirci Quindi se bisogna Che ti friggi Dove cazzo l'hai fatto Il pollaio E' nell'unico posto In cui si poter Cioè? E' tra il campo E' nell'erba E' perché Non so se Se lo metto sul cemento Non so se Crea uno spagliazzo Di terreno Oppure E' tra poco Devo fare tutto A mille giri Che la fai Moro Il terreno Cambia Dove posizioni Il collaio Ah Allora potevo Metterlo anche Sul cemento Vabbè Facciamolo qua Guarda che stai arrivando Vedi? Piano piano Moro Ah vai molto più veloce Di quanto andavo io Te lo posso sussurrare Un'accelerazione incredibile 40 km orari Adesso stai attento Però eh Mi fargi lo ricavaggio Mi fermerà più nessuno Forse la morte? No Sto andando veloce Come una biscia Eccoti 42 km orari Infatti dico io Già che ci sono Perché ci sono un albero Quello butto giù Ma perché stai fermo Certo Moro Se voglio andare a mangiare Sì sì ma tanto rimane qua la legna Mi è rimasto il tronco da Mi è rimasto il tronco da prima del weekend Però non cade quest'albero È magico Moro Lasseremo così Non puoi cadere da solo Guarda eh Ma preferisco non farlo Prima che facciamo altri casini Va Farò dopo Vedi Moro Io ho scaricato quelli Moro stai buttando giù l'albero Lo sapevo io Che sei un pirla Guarda Adesso guarda Che ce l'hai tutto attaccato sopra La porca miseria Allora Buttalo giù Buttalo giù lo sminuto Buttalo giù Allora Quindi Marco che cazzo Tori perché hai lasciato il camioncino lì in mezzo Perché ti eri ribaltato Stavo provando a farlo io con la macchina No ma hai lasciato il rimorchio lì Eh certo Come li spingevo Questo qua erano tutti in giro Leva il rimorchio È un attimo Guarda Perfezione Se non potevi andare di là Scusami Come fai a girarti così? Eh? C'è un'idea È un'idea Era l'unica soluzione Anche Non so Credevo di precipitare Tira Aspetta Non gira Ah Lavoro di ma gambe Moro Sidi Marco Fermo lì Che sei scappato Cagato Sto tagliando la legna Il mio spirito da fare legname Ma le ruote non sono dritte insieme Gira Le puoi fare Con le Con wild Ah senza Ok Stratto integrale Eccolo Sarà un cassone Almeno rendiamo questo viaggio Un po' più fruttivo Facciamo qualche euro Almeno Moro Moro Lo stai facendo? Sì Non c'è Oh no Non è lì Guarda che bellezza qua Ma che spettacolo Ma che succede? Questo Bell'albero Infatti i soldi che guadagniamo Paghiamo i danni Marco Adesso me lo puoi togliere Il camioncino Per non rimediare A una cosa che è successa Cosa devo togliere? Il furgoncino Il zumpare di quei di là Sarebbe avuto C'è incastrato Moro Ah c'è un pallo lì Ti l'avrebbe mai detto Che mi sarei trovato qua La macchina è a rischio Caduta Stiamola in sicurezza Detto E' un po' di portarmelo dietro così Eh? Niente Siamo andarsene Moro direi Marco Non mi pare proprio Ah no? Beh io me ne vado Moro Aspetta 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 Vado di là Moro Arrivato a portarlo A Voi a casa Marco c'è la scorciatoia Tra l'altro Hai ragione Mi butto Oh Aspetta Che c'è Lo faccio Non si può mettere vicino Alla casa Perché dice Oh santo cielo Moro E' vero che c'è il carrello Attaccato dietro Eh beh Eh Ma non fa niente Marco No no Fa Fa Ha fatto Vado a prendere Il trattore Ma com'è Che non riesco A fare sta cazzata Oh Ora ce la fai Io credo in te Non posso Tirarti sotto Dieter Dimmi che E' il trattore Troppo Rispendo il Fiat Va Prendo quello Il John Deere Prendo il John Deere Oh non si stacca Questa merda Ma vedi che ce lo da Il cane Mark guarda Mark Ries Aspetta Potrei ucciderlo Adesso Ehm Dove andò Aaaaa Si ribaltava il John Deere Oh lanciagli la palla Bellissimo Vabbè ma è tutto Pagato il cane Ma guarda Devo spostare Quelle robe lì Adesso Vieni ad aiutarmi Con il trattore Ma ancora No 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 Ehm Perché devo far manovra E devi riportarlo a casa Anche solo Ma perché non hai fatto danni No adesso l'ho sistemato Il danno Era tutto il contrario Prima Questa sopra qua Tanto è quello di 14 Oh trasporto terminato Moro che bellezza Una fatica boia Per Accogliere 2500 piccoli Guardalo Mark Vabbè Lo vedo lo vedo il cagnolozzo Me ne vado io però eh Oh arrivo anche io adesso Così finalmente Anzi mi appropinto verso la segherina Allora Mercoledì Mercoledì dobbiamo raccogliere il grano lì Quello che abbiamo coltivato E Comprare il pollame E io posso fare un cagino di soldi Vabbè a comprare il pollame Che bisogna capire un po' come si fa Il pollame I po Eh sì no bisogna andare a vedere Perché bisogna dare il chiede a mangiare Il pollame è sulla carne dopo Eh bisogna dargli il mangiare poi anche Certo No non dover so la segheria io Tanto domani Cioè mercoledì mi servirà essere là Ok Ah che bevesse Quanto Quanto si muove tutto là Come sul caglio Però ci arrivo in un attimo la segheria di questa macchina Ma che bello Anche la pallina Come si chiama Non so Non so se si può dare il nome Ma è andato Io lo chiamerei Catrame Ha il colore del catrame Mi piace? Ma che bello Mi piace catrame Allora è deciso? Il dito Vediamo se si può Catrame Si chiama catrame No catrame No catrame non è quello del catrame Lo chiamiamo catrame Puoi dire di seguirti Ah vedi che mi seguo Vedi qui pippo Ma c'è pippo? È catrame È catrame Ormai c'è pippo Ma non è pippo Pippo vieni qua Ma è catrame Non è pippo Sarà il profondo Non mi risponde Ma chiamiamo Esprit Ma Esprit è il cavallo L'hanno detto O un pollo A caso Uno dei pollo Dai Esprit sarà un pollo Allora Si può pettare Va bene Sì no poi digli Seguirti Vabbè Amici Salva Salva Amici Noi Come di consueto Siamo dei contadi Però Vi ricordo Che questa Cosa vuole? Sono arrivato in segheria Fammi vendere Allora Questa sera Questa sera Giochiamo a Darwin Project Con i subscriber Quindi se siete sub E volete giocare con noi Scaricatevelo È gratuito Su Steam Vai ci sono E Noi ci vediamo anche Domani mattina Ma non con Farming Simulator Ma con GTA Quindi Quindi Belli Buon pranzo Grazie a tutti Per averci seguito Un bacione A tutti quanti Ciao belli